Saranno molti gli italiani che per le prossime vacanze estive rimarranno dentro i confini dello stivale, complice anche la voglia di sicurezza dopo gli attentati che stanno devastando l'Europa e non solo. E tra le regioni la Toscana rimane una delle destinazioni preferite per il nostro icon nazionale. Il 14,4% sceglierà infatti proprio le mete della regione per le proprie fere. I turisti italiani arriveranno soprattutto da Lombardia e Piemonte ma molti verranno anche dal Lazio. Perché continuano a venire in vacanza in Toscana i turisti italiani? Perché hanno ricominciato a tornare in vacanza in Toscana italiani? Soprattutto per la qualità, la qualità dell'offerta è quello che emerge con più forza dai dati che presentiamo oggi, quindi un mix, un'esperienza di vita che piace al turista italiano. Insomma la Toscana continua ad attrarre i viaggiatori italiani ma soprattutto esteri, in particolare per la qualità dell'offerta turistica, qualità considerata primo fattore di successo per la regione, come ricordato anche nel corso dell'incontro turismo e Toscana tenutosi a Firenze, un focus sulla nuova governance regionale del settore, un momento di profonda trasformazione per le politiche turistiche, come ricordato dallo stesso assessore regionale Stefano Cioffo. Sono certo che il mondo dell'impresa, dell'industria, perché questo è turistica toscana, abbia bisogno di flessibilità, di esprimere al meglio il proprio dinamismo e di intercettare le grandi occasioni che fortunatamente ci sono messe a disposizione. Siamo qui stamani per rifletterne insieme, per mettere insieme le esperienze, le varie visioni, per raccogliere anche la possibilità di un confronto diretto con il piano strategico nazionale del turismo, ne parleremo e consegneremo la nostra visione, perché faccia parte in maniera organica del progetto nazionale. Noi dobbiamo far sì di trovare tutti quegli strumenti pubblici che possano assecondare lo sviluppo di un settore che in Italia pesa per più del 10% del PIL, quindi forse il principale, se non uno dei principali settori dell'economia italiana. Quindi dobbiamo assecondare uno dei fattori che può aiutare lo sviluppo del paese. Nel corso dell'incontro tenuto sia all'editorio ma al Duomo è stato anche tracciato il bilancio della congiuntura 2015-2016 per il turismo toscano. Il quadro che ne emerge è positivo. A confermarlo sono i numeri 90 milioni di viaggiatori che hanno scelto la Toscana il 2015, con un aumento del 3,1% per gli arrivi e del 2,9% nelle presenze. Destinazione top della Toscana si conferma ancora una volta a Firenze, seguita da Prato, Grosseto e Livorno. Buone infine anche le performance di Siena, Arezzo e Del Chianti. Città d'arte su tutti, ma città d'arte non solo di primo livello, anche patrimonio storico artistico diffuso e dunque centri minori attorno ai quali le destinazioni di campagna collina sono l'altro elemento portante. Addirittura quello che noi cominciamo ad osservare, ma è un'osservazione come dire da qualificare, da sostanziare poi nel tempo, quindi osservando più anni, è una sorta di pendolarismo turistico che in qualche modo vede crescere i centri di rurale in qualche modo attorno agli attrattori che possono essere le grandi città d'arte, ma anche le medie e piccole centri d'arte.